A causa del forfè del Friedrichshafen si chiude con un giorno di anticipo la trasferta tedesca della Trentino Itas che arriva ai quarti di Champions League in battuta e da prima del suo girone, la Poulet. Staccato il pass per il prosiegue del torneo con la vittoria nel match sul Novo Sibirsk, è arrivato ieri anche il successo per 3-1 sui cecchi del Carlo Varsco che pur hanno venduta cara la pelle. Dispiace aver perso il primo set, comunque il primo posto del girone è stato conquistato senza sconfitte, questo qui è buono, però c'è da rimarcare il fatto che avevo chiesto un approccio un pochettino più deciso e questo non c'è stato. Mister Lorenzetti rispetto al giorno precedente cambia soltanto una pedina, schierando Alessandro Michieletto per Dick Coy in posto 4. Trento vince il primo set 25-22, il Carlo Varsco pareggia i conti nel secondo chiuso 23-25, poi la superiorità tecnico-tattica della formazione giallo-blu emerge e la Trentino Itas va a vincere terzo e quarto parziale 25-20-25-22. È stata una partita molto complicata, loro non avevano nulla da perdere, quindi hanno giocato molto sciolti, ci hanno messo sotto pressione soprattutto il secondo set, però c'è anche da dire che noi non abbiamo giocato ai nostri standard, quindi sicuramente dovevamo scendere in campo con un'altra testa, però insomma adesso risultato finito, tre punti portati a casa, importanti per il primo posto e anche per il cammino della Champions League. Migliore in campo si conferma Nimir Abdelaziz, l'opposto segna 20 punti e chiude col 50% in attacco, due isse e un muro. Buone le prove dello schiacciatore Lucarelli, 13 punti col 60% in attacco e un muro, ed il Isinaz spaventoso in primo tempo dove chiude con oltre il 90% di efficacia e a muro dove chiude per tre volte la strada agli attaccanti avversari. Oggi era un partito dura, posso dire dura, loro hanno giocato bene, molto meglio di prima partita che abbiamo anche vinto 3-1, ma oggi abbiamo giocato con più fatica, ma è sempre importante vincere e alla fine siamo contenti. Grazie alle 6 vittorie su 6 e ai 17 punti su 18 in palio conquistati in questa main phase, Trento arriva al sorteggio lussemburghese di venerdì 12 febbraio come una delle quattro teste di serie.